Al via le semifinali ieri sera di Beach Soccer, calcetto 4 contro 4, sullo splendido scenario degli impianti sportivi del Camarina Beach Sport, sulla riviera Camara Nascolito, organizzato da ormai 17 anni Alessandro Barone. Il centro sportivo AIB ha sconfitto per 8 a 5 tori rossi, superlativo sul retangolo di gioco Andrea Giudice in compagnia di Salvatore Battaglia, loro hanno fatto la differenza sul campo. E' finita 4 a 4 la seconda semifinale di Beach Soccer che si è conclusa con i rigori. A spuntarla è stata linea verde con forte equilibrio e agonismo, decisiva la parata di Rizza su Vespertino. Nella semifinale del calcetto 4 contro 4 il Barrizza ha battuto gli impianti elettrici Salerno per 15 a 5. I impianti Vladimiro di Alessandro Barone hanno avuto la meglio con 8 a 6 contro il team Biundo di Salvatore Buccheri. Domani è la giornata delle forti emozioni al Camarina con le competizioni che vedono agguerrite le squadre delle 12 discipline, tra cui Tan Beach, Bossabo, il calcio tennis con Angelo Biondi, il free volley di Lucia Invincibile con arbitro Luciano Bennici. Domani lo sguardo sarà rivolto anche in cielo per un momento di silenzio dedicato al giovane 29enne Giovanni Machiavelo, travolto da un'auto in corsa mentre faceva il guardiano dei campi sulla rivera Camarana la notte del 23 luglio. Grazie per la visione!